Video Channels è un servizio streaming che permette ai membri Prime, di iscriversi ai canali con un canone di abbonamento ridotto, disponibile individualmente senza contratto o acquisto di pacchetti, i membri Amazon Prime, possono ora aggiungere canali come, Infinity, Mubi, Nojin, e tanto altro ancora. Inoltre con Prime Video Channel, i clienti possono creare un palinsesto davvero personalizzato, pagando solo per i canali che desiderano vedere, guardare i canali ovunque e in qualsiasi momento, con l'app Prime Video, su oltre 600 dispositivi compatibili, ottenere i canali più amati, tutti in un unico posto, Senza dover scaricare altre app, guardare spettacoli ed eventi dal vivo su canali selezionati, esplorare nuovi canali grazie a periodi di prova gratuiti e offerte speciali, cancellare le loro iscrizioni in qualsiasi momento, fantastico ragazzi, tantissime opportunità avete con Prime Video Channel, meraviglioso, e come vedete potete cancellare quando volete, fate oggi. Stesso Prime Video Channel, vi lascio in descrizione video, il link affiliato Amazon.